Simboleggia il gemellaggio tra le due città di Venezia e New York. L'opera dello scultore veneziano Giorgio Bortoli, Torri di Lucia, dopo lunghi mesi di preparazione, è finalmente partita per New York. Imbarcata in un container a Marcontenta, nel corso di una breve cerimonia, qui hanno partecipato tra gli altri anche il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, il consigliere regionale Marco Dolfim e tutti gli amici del territorio che hanno reso possibile il viaggio. Prima dell'imbarco, la benedizione del parco di Marcontenta, donna Alessandro Rosin. È partita per New York da Porto Marghera, ieri imbarcata a Livorno, container, e quindi sono soddisfatto. L'opera rappresenta il Campanile di San Marco e il Metropolitan Life Tower, che lo rappresenta a modo di grattacielo. E quindi io ho inserito una scultura dentro l'altra, praticamente il piccolo dentro il grande, quindi acciaio e vetro di Murano. La scultura è circa 12 metri, con alcuni componenti, pezzi, del vecchio Campanile crollato nel 1902. Qual è il significato? Il significato è un gemellaggio tra le due città d'acqua e tra le due città verticali. L'inaugurazione dell'opera è prevista a New York il prossimo 21 maggio. Arriverà il 24 di aprile, via nave, e verrà esposta perennemente, quindi rimane lì con una donazione, al Meucci Garibaldi Museo di State Island, di fronte alla Statua della Libertà. Dopo tanti anni di aver girato tutto il territorio del Veneto, di aver sconfinato anche in Friuli, finalmente trova la giusta collocazione, la collocazione finale. Adesso sto portando avanti un'iniziativa sulla violenza femminile con una scarpa gigante, che è partita dalla mostra del cinema di Venezia, è andata a Treviso in Piazza dei Signori, attualmente è a Chioggia e andrà avanti tutto un anno, sempre su città del Veneto, del Triveneto.